I numeri sono buoni ormai da molto tempo, cioè sono stabili grazie all'opera che viene fatta quotidianamente. Mesi fa ci si aspettava un periodo peggiore, invece stiamo vivendo un buon controllo della malattia e dei focolai. Lo ha detto il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri in un intervento a Timeline su Sky TG24. Il numero dei nuovi casi registrati in Italia negli ultimi giorni si aggira intorno ai 200 e sono prevalentemente soggetti che vengono rinvenuti positivi perché viene fatta un'opera di screening accanto a qualcuno che si è ammalato o perché vengono fatti tamponi in determinate categorie di soggetti, ha precisato Sileri, che ha aggiunto. I numeri sono tendenzialmente stabili, non sono né migliorati né peggiorati. E' quello che vivremo per alcune settimane da oggi, poi vedremo quello che accadrà a ottobre, se il virus rialzerà la testa.